Sono Sergio Lombardini, sono direttore della ricerca, tecnologia e ingegneria in Versalis S.p.A. La chimica da rinnovabile per Versalis non è certo un'opportunità, non è una visione a breve termine, ma considera una strategia di crescita che cerca di utilizzare come leva di sviluppo una conoscenza diffusa e un background molto ampio della ricerca che è stato sviluppato in decenni all'interno con lo scopo di integrare la chimica da fossile con la chimica da rinnovabile. Cerco di precisare meglio, il nostro obiettivo è quello di generare da biomassa o da cariche vegetali degli intermedi bio, biobased, che possano o da un lato essere una integrazione alle nostre filiere produttive o essere loro stessi dei prodotti che vanno direttamente sul mercato. In entrambi i casi è una integrazione che rinforza le nostre catene produttive ma che ci permette di espandere le nostre conoscenze a un campo che è molto importante da presidiare e che noi riteniamo abbia una grossa percentuale di crescita nel prossimo futuro.